Dio ama tutti. Anche mia madre. Due amici legati dal destino. Come ti chiami? Mi chiamo Narciso. E io Boccadoro. Chi è il tuo miglior amico? Qui nel convento tutto il nostro amore è rivolto a Dio. Allora noi tre potremmo essere migliori amici? Non potevano separare le loro vite. Boccadoro è come un uccello in gabbia. Vorrebbe essere un monaco ma i suoi talenti lo spingono altrove. Non potevano rinunciare alla libertà. Forse anch'io qui sono fuori posto. Sì hai ragione ormai tu qui sei fuori posto. Narciso ho bisogno di te. In prima visione assoluta Narciso e Boccadoro. Domenica le 21 e 20. Rai 4.